Con 50 anni di esperienza in ambito di comunicazione e sicurezza Ascom oggi è qui in questa fiera riaffermare il proprio ruolo in un ambito estremamente sfidante per aziende come la nostra. In questa edizione di Mexpe lanciamo la nostra Enterprise Platform, una suite di applicativi che permette di gestire la sicurezza dei lavoratori e i processi all'interno delle aziende ottimizzando la pubblicazione tra gli operatori e i team manutentivi. Quest'anno Ascom ha delle novità molto interessanti che stiamo presentando un po' alle varie fiere, ai vari eventi con i nostri partner. Uno dei prodotti di Pulta è sicuramente D83 che è un prodotto industriale, è un prodotto con tutta una serie di caratteristiche che consente all'utente che lavora in modalità isolata o in zone in aree critiche, abbiamo la possibilità di erogare servizi di sicurezza proprio per il lavoratore. Tramite open down o tramite bash button, tramite la localizzazione, quindi attraverso una serie di servizi che consentono poi al responsabile della sicurezza di intervenire e di soccorrere l'utente che ha avuto un infortunio o ha avuto una problematica di qualsiasi natura. Ascom è un marchio oggi molto afferrato nel contesto produttivo grazie alle nostre infrastrutture e ai nostri dispositivi mobili. Un'altra novità importante di quest'anno è sicuramente la nostra nuova piattaforma Ophelia. Con questa nuova piattaforma possiamo appoggiarci al parco installato e dare ai nostri clienti nuove funzionalità. Una piattaforma software che è in grado di connettersi e di gestire qualsiasi tipo di informazione che viene generata dalla rete del cliente. Che sia un'informazione di un impianto piuttosto che un'informazione personale è possibile far arrivare il dato alle persone direttamente interessate. Con Ophelia attraverso decine di driver possiamo integrarci a qualsiasi tipo di linguaggio industriale ma anche negli altri nostri vertical di riferimento. Integrando soluzioni hardware e soluzioni software oggi riusciamo a fare un step in avanti dimostrando che l'integrazione tra hardware e software in un ambito così complesso come quello del mondo enterprise riesca a offrire una nuova generazione di soluzioni per la sicurezza del lavoro da favore e per l'efficientamento dei processi prebuttivi.